Ehi la gente, benvenuti in questo nuovo video, oggi siamo tornati su Brawl Stars. Oggi siamo qua in PL, sì perché sono ormai sempre più vicino alla fine del pass e non ho ancora sbloccato la skin di Meg, il che potrebbe essere veramente veramente un problema. E a proposito di pass nuovo che si avvicina, ragazzi, molti di voi si staranno chiedendo dov'è il Brawl Talk. Beh ragazzi, nel video di ieri già l'abbiamo detto e se ci sarebbero state novità, annunci durante l'arco della giornata avremmo potuto ipotizzare di vedere il Brawl Talk oggi, così non è stato, quindi salvo qualche colpo di scena è molto probabile, ovviamente non possiamo avere la certezza matematica, che il Brawl Talk sia sabato prossimo. Il 24, giornata in cui tra l'altro ci saranno anche le finali mensili ed è effettivamente l'ultimo sabato utile di giugno quindi abbiamo già parlato di questa cosa, sapete che il Brawl Talk ovviamente esce il sabato è probabile che quello potrebbe essere il giorno popabile, ma non abbiamo ancora nessuna informazione, nessuno spoiler da parte del team di Brawl Stars, anche se in realtà due informazioni sono trappelate, altrimenti non sarei qua a fare questo video oggi. giochiamo questa partita, poi ci buttiamo sul profilo Twitter di Frank e vi mostro un pochettino quello che sta succedendo ragazzi adesso concentriamoci perché questi match sono davvero davvero importanti più che altro che insomma devo vincerli dei match ragazzi, non ci credo che sia uno snipe è uno che mi ha riconosciuto, è impazzisco ok qua mi faccio un attimino fare un po' di hit ma almeno ho rotto tutto ragazzi così le ho tolto uno spot importante, ok anche qua era un po' tutto, ok ok le nostre 4 gimmine ce le abbiamo ci spostiamo qua, zik, perfetto, facciamo la kill un saluto al Bats, perfetto ragazzi così siamo dei signori così va benissimo, tra l'altro se non sbaglio dovrei avere una missione con con Stu che se per caso faccio una win bello il Bats tra l'altro, GG dicevo se per caso faccio una win faccio anche una bella missioncina ok, prendiamoci al volo le gemmette ok bello il Bats che ce lo siamo tolti andiamo a fare anche una robetta del genere magari senza morire sarebbe gradita come cosa perfetto in realtà le gemme il bocce le ha quindi io posso anche pushare e ragazzi il primo round ce lo portiamo a casa così vediamo se riusciamo a fare un 2-0 secco in realtà già così dovrei aver vinto la prima round e dovrei aver fatto anche la missione con Stu sinceramente non ho ben capito se il Bats è uno snipe o no perché un po' giocava un po' non giocava voleva fare dei trick non si è capito benissimo c'è da dire anche ai ragazzi che sono molto low con le leghe se ci avete fatto caso è voluta la cosa anche per appunto poter pushare più tranquillamente ok, intanto gli rompo un po' il muro e il Bats, ok, non è uno snipe il Bats direi proprio che non è uno snipe va bene andrei a rompere qua ok, così do una mano al Lotus ok lascio le gemme al bo vado anche a fare un'altra rottura qua così, perfetto molto nel cholling ok, andiamo a fare a dare una mano qui e lì ho fatto una cavolata ragazzi il bo potrebbe morirci e anzi senza potrebbe ok, buono, Lotus bisogna stare attenti al Bats che tra l'altro ha le gemme sulla cabeza quindi difficilmente andrà ad alzardare un push ok ok, facciamo una roba del genere posso andarlo a pushare? direi proprio di sì qua ho fatto un po' una cavolata eh, gli sono andato troppo addosso lui si è mosso bene cerchiamo di riposizionarci un pochettino meglio Lotus è diventato un mid praticamente ormai, va bene io mi prendo il mio lane devo dire che ho trovato dei randomini che mantengono anche discretamente una posizione attenzione qua c'è il recuperone ragazzi l'Ultis ha fatto anche una grandissima ulti gliela facciamo ste emoji ok e io direi che siamo dei signori ci togliamo tutto il Bats prova il gadget disperato non ce la fa e ragazzi doppio round vinto super chill ottimi randomini ci farei la firma per beccarli sempre così sinceramente alla grande ok ci facciamo anche la maestria su Stu e la maestria silver 3 ragazzi presto o tardi arriverà anche la maestria gold di Stu a zero coppe non so quanto tempo ci metterò ma pian piano la farò 8 partite vinte e come vedete sto andando avanti con i round devo dire una delle season in cui sono stato più lento con i round la mia domanda è perché io ho questa skin nel randomizzatore la togliamo subito quindi partiamo con il content il succo di oggi come sempre vi chiedo ragazzi di supportare il canale che ogni giorno vi porta tutte le informazioni per quanto riguarda il mondo di brawl stars lo potete fare in tre modi semplici e veloci un bel like proviamo ad arrivare a 3000 like so che è molto difficile in questo periodo ma presto ci sarà il brawl talk e dobbiamo arrivarci carichi come delle molle ragazzi ovviamente l'iscrizione al canale con la campanellina e infine ragazzi un bel codice ferre in fondo allo shop in un attimo fate così lo inserite trick e ballack e siete a posto e spostiamoci su twitter ma prima di andare sul profilo di frank facciamo un salto sul profilo di esl perché ci sono due cosettine interessanti anche qua che vi voglio dire la prima è che riparte esl open final ragazzi queste qua sono i punti al momento attuale avremo un match castato il 28 di giugno quindi non mancate sarà un mercoledì se non sbaglio verso tardo pomeriggio sera ci becchiamo ovviamente ragazzi con i nostri co-caster d'eccezione e ci sarà una mega live la cosa interessante di questo discorso è questa ragazzi ovvero che il vincitore delle challenge final quindi lo step successivo vedremo le open final il 28 però insomma proseguendo con questa competizione il vincitore e anzi i primi 4 vincitori andranno a totalizzare questi punti che avranno valenza avranno valore per la classifica generale che troviamo in game cioè per essere più precisi quella del tastino e-sport che abbiamo subito questa classifica qua ragazzi che vi ricordo è quella che manda effettivamente dei team al mondiale ragazzi quindi questo cambia completamente le carte in tavola perché oltre ai punti di questo trimestre ci saranno anche questi punti extra della ESL tra l'altro vi ricordo se volete seguire la finale mensile che è insomma l'evento più alto di competitive di Brawl Stars vi aspetto invece il 24 questa volta saremo sul canale di Daniele e commenteremo rigorosamente insieme comunque chiusa questa piccola parentesi e-sport andiamo sul profilo di Frank e iniziamo a parlare di quelle che sono le news che ci potrebbero interessare per il prossimo update ragazzi e qui abbiamo un po' di roba ok eccolo qua il primo tweet Frank dice come probabilmente avrete capito dal mio livello di attività sui social il prossimo aggiornamento di Brawl Stars si avvicina e con esso la nostra consueta pausa estiva questo che cosa vuol dire ve lo dico subito è un'arma a doppio taglio da una parte vuol dire che appunto Brawl Stars come tante altre aziende si prenderà una pausa nel periodo estivo e avrà un mese di inattività ma dall'altra questo potrebbe voler dire che il prossimo aggiornamento sarà uno dei più grandi ci saranno veramente tante novità probabilmente per dare alla community un update abbastanza succoso in modo da poter provvedere anche a dare una serie di contenuti durante il periodo estivo ai player di Brawl e la chicca di questo tweet è che aggiunge Frank trascorrerò un po' di tempo in Italia quest'estate e tra le varie risposte le varie cose vabbè adesso non vado a entrare troppo nello specifico di questo argomento c'è questo ragazzo che gli dice in quale parte di Italia andrai e Frank scrive Sardegna ragazzi anzi per la precisione Sardinia e subito un ragazzo correggono che gli dice se è Sardegna sai che sarà fantastico vabbè insomma se c'è qualche amico sardo sappiate che Frank potrebbe fare un salto da voi spero che la cosa vi possa far piacere ad ogni modo quello che ci interessa veramente in questo momento è il commento di questo ragazzo che giustamente per restare perfettamente in tema al discorso di Frank che diceva di andare in vacanza gli dice Frank che ridici di un nuovo livello di maestria vamo così perfettamente in linea con il discorso e il ragazzo aggiunge anche potrebbe essere diamante 1, 2, 3 gli spiega anche quali potrebbero essere le ricompense bling crediti cromatici insomma fa un commento molto audace anche che riprende tra l'altro una teoria che avevo fatto sul mio canale nella miniserie che avevo fatto sulle maestrie quando queste ultime furono introdotte ufficialmente dove spiegavo appunto che effettivamente le maestrie che abbiamo adesso su brawl anche se sembrano tante e difficili in realtà ragazzi sono poche ok potenzialmente la dinamica delle maestrie potrebbe essere ampliata a livelli esorbitanti le maestrie come le conosciamo adesso un domani potrebbero essere proprio il primo step una cosa molto basilare Frank risponde e per la prima volta conferma questa teoria ragazzi che avevamo fatto ormai parecchio tempo fa eccolo qua infatti il suo tweet dice siamo aperti all'aggiunta di livelli di maestrie quindi palesa subito il fatto che stanno ragionando è nella loro roadmap in un certo senso potenziare le maestrie ovviamente non specifica assolutamente una data o un periodo con questa affermazione ma dice che per il momento solo una piccola parte delle persone ha anche solo un brawler padroneggiato vuol dire masterato vabbè quindi non ha ancora molto senso lascia intendere quindi che sarà un qualcosa che avverrà probabilmente molto in futuro non sarà una novità che vedremo in questo Brawl Talk ma di fatto questa informazione vale la pena di salvarla perché probabilmente servirà per qualche video di Brawl Stars attese sarà una di quelle cose che terremo lì tra l'altro preparatevi ragazzi perché è molto probabile che durante il corso della settimana prossima arriveranno o degli spoiler da parte di Brawl Stars se effettivamente si confermerà il Brawl Talk e di conseguenza anche i miei consueti video sulle attese su cosa c'è da aspettarsi concretamente su questo Brawl Talk o no quindi no non possiamo aspettarci secondo me assolutamente dei nuovi livelli di maestria ma sappiamo che questa è oggettivamente una dinamica che è potenzialmente incompleta e che può essere ampliata parecchio la cosa mi manda in hype abbastanza sinceramente più che altro perché quella vecchia teoria che abbiamo fatto ragazzi ancora una volta in qualche modo è stata confermata a riprova del fatto che le teorie su questo canale non vengono sparate fuori così a caso va comunque preso in considerazione quello che ha detto Frank cioè che al momento attuale masterare è un processo molto lento come potete vedere anche dal mio Stu e che la stragrande maggioranza della gente lo fa in maniera molto chill ok non sono poi così tanti quelli che si mettono a tryhardare seriamente le maestrie io stesso devo dire che me le sto chillando molto non mi sono mai chiuso completamente su un brawler per il momento ho raggiunto sì delle maestrie gold ma solamente perché ho fatto format come quelli della settimana solo un brawler e quindi la maestria è stata più una conseguenza diciamo detto ciò comunque sì ragazzi con questo video siamo giunti al termine vi ringrazio per la visione ci becchiamo alla prossima un saluto a tutti e ciao belli